Amici, allora oggi vi voglio presentare un nuovo strumentino che mi sono fatto arrivare da Amazon. Giro la telecamera e vi faccio vedere. Guardate qua, questo simpatico microtest. Non ci volevo credere, anche perché costa una sciocchezza, circa 40 euro. Con Amazon Prime poi arriva in un giorno. E che cosa fa questo apparecchietto? Va bene. Diciamo subito che è per orologio al quarzo. Abbiamo il controllo pile, per cui mettendo la batteria qua, senza cavi niente, basta spingerlo contro il positivo. L'unica cosa è che con una batteria da un volta e mezzo, la lettura va sempre fatta sulla scala superiore. Per cui vedete che va su uno e mezzo. E misura anche quelle da tre volte. Poi invece, accendendo l'apparecchietto qua, abbiamo il detector. Il detector cosa serve? Serve nel caso avessimo un orologio bloccato e non capiamo se funziona. Lui è un piccolo microfonino che ci dice, sì, va che va. E nel caso avessimo un orologio bloccato, con questo Mechanic, in questo caso ho preso un orologio fermo, scassato. E ce lo sblocca. Fantastico. Amici, 40 euro. Vi metto il link di acquisto nei commenti. Grazie.